Vincenzo Matroni, lo schema sembra quello dell'anno scorso, 4-3-3, ma non avendo più il regista difensivo che avevi l'anno scorso, hai dovuto lavorare e chiederai al tuo centrocampista qualcosa di diverso? No, ho chiesto anche qualcosa di diverso agli altri, Romagnoli secondo me lo può fare, Caldara lo può fare, Musacchio lo può fare e penso che tante volte forzarlo un po' di più ma andare a cercare sempre un'imbucata, una verticalizzazione in più anche con il centrale, sicuramente farla anche con i centrocampisti, con il vertice basso. Sicuramente andare a verticalizzare un po' di più perché stiamo provando anche Suso a farlo tagliare un po' di più, non so se avete notato in queste partite, con le mezzali andare a sistematicamente andare in aria col tempo giusto e qualcosina abbiamo provato e speriamo di metterlo in pratica in questo momento. Però non passa solo dei piedi del vertice basso ma passerà anche dei piedi del vertice basso.